Ciao, eccoci su ArdiFocus, allora in questa serie di video vedrete come trasformare il vostro Nemington 870 Express in un'arma studiata un po' per uso tattico e difensivo, vediamo un po' gli accessori aggiunti, allora partiamo da cosa? Dalla mira, la mira è altrizio, si tratta di un dot molto semplice da fissare, passiamo poi invece a un'estensione di due colpi dal serbatoio, ok, vediamo di qua, eccola qui, questa è forse quella parte che richiede più lavorazione di tutte, abbiamo poi che cosa? Un'astina, ok, HOG, con questo inserto di gomma che la rende veramente molto semplice da prendere, molto semplice da utilizzare e ha veramente un'ottima presa. Abbiamo poi, procedendo un portacolpi laterale, per andare a portare i nostri colpi, ok, è possibile caricarlo sia dall'alto che dal basso, ok, e abbiamo quindi altri sei colpi aggiuntivi, oltre ai sei che abbiamo in serbatoio, grazie all'estensione di due colpi. L'ultima cosa, c'è una calciatura, ok, sempre della HOG, con l'inserto in gomma qui, per un'ottima presa salda, che è più corta di circa due pollici, questo ha un notevole vantaggio in termini di rapidità dell'uso dell'imbracciamento dell'arma. Ecco, quindi, se seguite i vari video, scoprirete come montare questi accessori e capiremo poi, in un'altra serie, insomma, sulla serie Advanced, come mai abbiamo scelto questi accessori da montare su Remington Note 70 e che vantaggi offrono. Grazie! Spero che vi piacciono i video, spero che riusciate a fare anche voi tutti i vari passaggi. Ovviamente questi accessori sono tutti quanti, diciamo, acquistabili separatamente, potete acquistarne uno e andare a installarlo, poi prenderne un'altra e così via. E quindi seguite i video e fatemi sapere come vi trovate. Grazie! Grazie!